Un caloroso saluto a tutti voi, siamo in attesa del calcio d'inizio, ancora un po' di pazienza e si comincia. Io sono Fabio Charesse e qui con me c'è Luca Marcheggiani. Un saluto a te Fabio e a tutti i tifosi sperando di assistere ad un grande incontro. Grazie a tutti. E potete vedere lo schieramento delle due squadre in campo. Diamo il via alla partita. Obie, Belotti, palla larga e in profondità. Molinaro scatta verso il pallone. Ottima giocata, Molinaro la mette in mezzo. Gioco una palla lunga. Baselli, fischio del direttore di gara, calcio di punizione. Sicuro qui l'intervento del portiere. Il Torino che prende subito il possesso della sfera. Obie, Ansaldi, se ne va. Cerca di lanciare il compagno. Trova il compagno. Belotti! Buona la sua progressione palla a piede. Sono alla ricerca di uno spunto per far male agli avversari. Costa. Cerca il tiro. Il portiere si oppone. Che grande parata. È incredibile che ci sia arrivato. Sembrava un gol fatto. Salta e colpisce di testa. Occasione fallita. È stato sfortunato qui. Molinaro. E passa. Tocco morbido. Higuaín. Si sblocca il risultato. Un fantastico tiro al volo per un grande gol. Una conclusione da urlo. Vede la palla. Cerca distinto la volè e calcia con grande convinzione. Un gol davvero da brividi. E il risultato si sblocca. Uno a zero. È ma è la sua natura. Quando la squadra ha bisogno, lui c'è. Ottimo il fraseggio. Obbi cerca un compagno libero. Pallone alto e lungo sulla fascia. Molinaro riceve in posizione interessante. Pallo intercettato. Ansaldi è dominato fisicamente. Si libera la grande. Elegante. Elegante. Marchisio. Pallone sulla traversa. Bernardeschi. Obbi. Primo tempo che si conclude dunque qui. Le squadre escono dal campo dopo i primi 45 minuti. Una sola rete messa a segno finora, ma la partita è ancora lunga. E si ricomincia a giocare. Il vantaggio di uno a zero non dà nessuna certezza. Devono dimenticarsi il gol e continuare a fare il loro gioco. Come se fossero ancora sullo zero a zero. Prova a scavalcare la difesa con il pallonetto. Può concludere. Assegnato. Ne hanno voluto un altro e adesso lo possono gestire con più calma. Doveva solo spingerla in rete. Un gol facile per lui. Si è inserito molto bene nello spazio e ha concluso con freddezza. E si riparte da un netto 2 a zero. Con questo gol possono affrontare il match con maggiore tranquillità. Pianic. Ballone alto nello spazio. Occhio al tiro. Non si fermano più. Ancora segno. Vantaggio di tre reti e potrebbe anche essere il gol della sicurezza. Grande azione. Tutta la squadra si è mossa perfettamente con i tempi giusti. Ha sfruttato nella maniera migliore questo contropiede. Si riparte dal 3 a 0. Gli Aic. Ansaldi. Gli Aic. Partita che sembra sotto controllo. Tre reti di differenza tra le due compagini. Baselli. Ansaldi. Buon lancio. Pericolo. Douglas Costa. La qualificazione sembra in cassaforte. È probabile che adesso pensino a conservare il risultato piuttosto che a macinare gioco. Marchisio. Conclusione interessante. Bella vada. Ha preferito tentare la conclusione nonostante fosse molto lontano. E va a colpire di testa. Niente da fare. Ha perso una buona occasione. Raccoglie il rinvio e fa solo la palla. Paolo Di Bala. Il Torino non sta facendo un pressing asfissiante. Cercano di mantenere le distanze Fabio. Con prudenza. Perché sanno che gli avversari puntano molto sugli inserimenti in velocità e i movimenti senza palla. Basta un movimento o un passaggio riuscito e sono in porta. Devono fare attenzione a non sbilanciarsi troppo. Pjanic. Bella serie di passaggi. Cercano di rilanciare l'azione dalle retrovie. Urdisso. Paolo Di Bala. Non si fa cogliere impreparato. Interrompe l'azione avversaria. Sturaro. Qua due a Samoa. È tutto. L'arbitro dice che può bastare e fischia la fine della gara. Abbiamo ammirato una squadra in grande condizione, in grande salute. Non c'è mai stato un dubbio sul risultato.